Il mio sogno più grande è avere una mamma. Spero di essere fortunata. Per favore, voglio vincere la migliore mamma del mondo. Così non va! Ciao, piccola! Sono la tua nuova mamma. Sono tutte le mie mamme. Nostra figlia è scomparsa! È colpa vostra! No, tua! Io tengo sempre d'occhio le persone più care. Dividiamoci a cercare Josie. La troveremo! Josie? Sei qui? Non c'è nessuno nella mia stanza. Josie? Cosa? La gente continua a gettare rifiuti nel mio oceano. Devo pulire la mia casa ancora una volta. Josie! Pesciolino mio! Dove sei? Josie? No, non è Josie! E non è nemmeno nella bara. Josie? Dov'è la nostra babbola? Hai gettato la tua spazzatura nel mio mondo sommerso? Sai io cosa fare? Barbie, sirena, vampiro, uno, due, tre, ora tocca a te! A me? No, ambarabaci, ciccocco, tre civette sul comò. La fortuna è atterrata su di me. Spostati! È ora che Barbie si cambi? Devo trovare un accessorio insolito. E questa cintura rosa è perfetta! Devo solo dare un tocco in più. Bene, bene, bene! Per prima cosa, incollerò un nastro di pizzo a forma di cuore. Un bel sacchetto di marshmallow! Perfetto! Dove lo attacco? Attacco gli oggetti essenziali della mamma alla mia cintura. Forcine, elastici, giocattoli, snack! Per averli sempre a portata di mano. Sono la mamma più elegante di sempre! Ops! Ho perso il mio bambino! Cosa? Ma dove sono? Aiuto! Eila! Hai visto questa ragazza? Ciao! Oh ragazzi! Ci sono un sacco di vestiti! Non vedo l'ora di provarli tutti! E questo! E questo! Bene, mi scusi! Ha visto nostra figlia? Un minuto! Ecco a voi! Da quella parte! Oh, grazie! Ragazze, come sto? Sono carina! Il rosa mi sta bene? Ma sei seria? Stiamo cercando Josie! Ah, giusto! Andiamo! Aspetta, chi paga la roba? I vampiri non pagano! Dammi un secondo! Ecco! È argento subacqueo! E siamo pari! Signore, abbiamo bisogno dell'aiuto della polizia! Cosa è successo? Barbie, dagli il messaggio! Ecco a lei, agente! È per me! Cosa? In cella! Subito! Oh, perché? Il vostro posto è dietro le sbarre! Non lascerò correre! Oh, la modalità pipistrello è attiva! Un pipistrello? Mi spaventano a morte! Aiuto! Ecco le chiavi! Cosa? È il biglietto della commessa! Abbiamo rapito un bambino? Ecco perché ci ha sbattuto dietro le sbarre! Siamo state incastrate! Apri! Chi aspetti? Uscite, ragazze! Cosa? La commessa è sparita! Ma dov'è? Bianco e nero? Che tristezza! Ho sentito qualcosa nel camerino! Ah, beccato! Ehi, bello! Dimmi chi è il cattivo! Ah, il ballo di mercoledì! Mi piace molto questa tendenza! Cos'è questo? Non è commestibile! So cosa significa! Andiamo! Cosa sta dicendo? Che intendi? Orrore soprannaturale! Era in trance! Aspetta! Ci penso io! Mi serve un pezzo di stoffa rossa e delle forbici! Ritaglio due ovali! E li cuccio con i denti! Essere un vampiro ha dei vantaggi! Venite, forbici! Devo ritagliare delle zanne perfette da un foglio di gomma piuma bianca! E i miei cari denti! Ci siamo quasi! Ora inserisco il filo e lo tiro per creare un sacchetto! Incollo le zanne sulla futura borsetta! Pronta! Ragazze, vi piace? Wow, incredibile! Vediamola! Ecco! Mi avete allungato la borsa! Sapete cosa? È meglio così! Ci saranno tutte le mie cose! Un bel sacco della spazzatura! Ehi! Non è per la spazzatura! Ci metterò i miei vestiti! Stupendo! Forte e chiaro! La borsa è mia! Io prendo la valigia! Va bene? Finalmente! Veloci! Evviva! Ragazze, venite qui! Finalmente ho trovato un bidone della spazzatura! Ora posso buttare via tutti i rifiuti dell'oceano! La plastica va con la plastica! Ragazzi, voi fate la raccolta differenziata! Scrivetelo qui sotto! Incantevole! Smettila di fare confusione! Buttala e andiamo via! Fermati! Cosa stai facendo? Togli la plastica dal contenitore del vetro e subito! Ok, ecco! Prendi! Grazie! Guardate cosa ho trovato! Lo so! È l'altra parte del messaggio! Cos'è questa parola? Non la capisco! Qualche idea, sirenetta? Ragazzi, ci serve il vostro aiuto! Mettete subito un like! Forza! Sì! Ci serve il vostro pollice in su! Così possiamo capire il messaggio! Abbiamo bisogno di tanti pollici in su! Andiamo, ragazzi! Ci siamo quasi! Ce l'avete fatta! Ha funzionato! È mercoledì! Ma dov'è? Lo so! Fidatevi di me! Ho un piano! Ci servono diversi rotoli di cartone! Li incollerò con la colla a caldo! E li dipingerò di blu! Ho fatto un tubo fantastico! Ma ha bisogno di un tocco di colore dalla mia tavolozza di sirena! Tutto qui! Viola! Blu! Blu mare! Il tubo brillerà di tutti i colori del mare! Oh sì! Ora dobbiamo inserire la lente! Decoro il mio cannocchiale con conchiglie e perle! Uso l'argilla leggera per modellare i polpi in modo che sembri un polpo! Devo creare dei buchi nelle palline d'argilla leggera! Fatto! Ora posso osservare tutti dal profondo della mia stanza! Ragazze! Correte qui! È Josie! Mano! Giocare a sasso carta forbici con degli ostaggi è un no! Da questa parte! Fammi vedere! Vedo un fermaglio per capelli! Tieni! So cosa fare! Pensa come un granchio! Senti come un granchio! Sei un granchio! Cos'è questo? Un fermaglio? Mano! Prenditi cura di lui! Ai! I miei denti! Poverina! Ecco, prendi un po' di ghiaccio! È stato doloroso! Ah! Avere una figlia è il sogno della mia vita! Mercoledì, perché sei così triste? Vorresti una figlia! Io sto cercando la mia mamma! Ti va di disegnare insieme? Certo! È divertente! Sai cos'è ancora meglio di questo? Mi faresti un corso di scherma? Puoi scommetterci! Ora basta! Signore! Non possiamo più trattenerci! Oggi è ora di unire le forze per affrontare insieme mercoledì! Salviamo Josie! Siete d'accordo? Oh sì! Ma dove ha preso quella scala? Che maestra degli effetti speciali! Indossate le lenti da battaglia! E fatevi valere! Oh no! La ucciderà! Fermatevi! Togliti di mezzo, tesoro! Ci occupiamo noi del rapitore! Non andrà da nessuna parte! Vi sbagliate di grosso! Ah! Ho preso un pipistrello per il pranzo! Potere delle alchi, aiutami! Questa patetica erba non mi fermerà! Manu? Arrivo! Ora basta! Oh oh! Tocca a me! Mano contro mano! Ok! Fuori le spade! Oh! Così non si mette bene! Affondo! E sei a terra! Ehi, stai bene? È stato facile! Mercoledì! Irivogliamo nostra figlia! Aspettate! Possiamo essere una famiglia felice! Prima di voi non avevo nemmeno una mamma! Figuriamoci quattro! Benvenuta in famiglia, Mercoledì! Una famiglia numerosa è una vera benedizione! Che ne dite di andare al concerto della mia cantante preferita? Sirena! Vi presentiamo l'affascinante vincitrice dei premi Canzone delle Alghe e Pinna Musicale dell'Anno! La Sirenetta! Voglio che quella voce sia mia! Ecco il soprano subacqueo! Sarà mio per sempre! Cosa? E ora il mio concerto! Scendi dal palco! No! Sta rovinando il mio concerto! Portatela via! No! Oh sì! Non canterai un'altra nota! È stato facile! Cosa? Aiuto! Cosa stai facendo? Un'altra simpatica sirenetta fatta fuori! Oh no! Tra poco andrò allo spettacolo della mia sirenetta preferita! Trasmetterò tutto in diretta streaming! Sono in ritardo o cosa? Ho sbagliato i giorni! Ma dov'è la sirenetta? Questo è il suo fermaglio per capelli! La sirenetta è stata rapida! Devo mettere le mani sulle chiavi! Ho bisogno dell'aiuto di qualcuno però! Oh! Piccola tartaruga! Mi daresti una mano? Portami le chiavi! Capito? Subito signora! Forza mia tartaruga ninja! Datti una mossa! Sto già correndo! Ma che succede? Ho le chiavi! Attivo la modalità meteorite! Che c'è qui? Ops! Aspetta che ti prenda! Muoviti tartaruga forza dai gas! Vado come un fulmine! Sei così vicina! Corri! Ci siamo quasi! Non si vede nemmeno! Come faccio a farti accelerare? Oh ragazzi! Aiutate la mia tartaruga a mettere il turbo! Per favore, dateci tanti like! Così la tartaruga andrà più veloce! A fare fatto! Forza! Sei così vicina! Ferma! Guscio con le zampe! Pensavi di poter rubare la chiave? Scordatelo! Ops! Ehi! Hai visto Sirenetta? Oh! Questo? No! Ops! È al contrario! E adesso? Oh sì! Eccola! Grazie mille! Sirena! È solo un poster! Come faccio a uscire da qui? Oh! Cosa sono questi rumori? Qualcuno sta torturando un gatto! Oh! La la la! Santo cielo! È disgustoso! Oh! Ci sono! Spostatevi! Sono una fan! Sirena! Posso avere un autografo? Sono la tua più grande fan! Ah! Ok! Ecco chi mi aiuterà! La mia fan sfegatata! Dove potrebbe essere? Oh! Mi sta chiamando! È il mio momento! Pronto? Pronto? Cosa? Non sento nulla! Sento una specie di bolle al telefono! Non ha alcun senso! Niente voce! Niente telefono! No! Chiedo scusa! Sono qui! Dall'altra parte! Ehi! Hai visto la sirenetta? Fammi vedere! No! Forse il tuo cane l'ha vista! Signorina Priscilla l'ha vista? È giusto gli occhiali! Allora? No! Mi dispiace ma no! Nemmeno Priscilla l'ha vista! Oh! Un concerto? Per beneficenza? No! Bene! Ci vediamo dopo! Oh no! Il mio telefono è ricoperto di slime! Che schifo! Bene, bene, bene! Devo subito migliorare la mia custodia del telefono! Potrei incollare un gush? No! Ancora una volta! Accidenti! Sei odioso! Qualche problema? Questa è la mia occasione! Ehi, Ursula! Ti propongo uno scambio! Io ti aiuto con la cover e tu mi dai del cibo! Affare fatto! Affare fatto! Prima il cibo! Questo! Prima una nuova cover! Bene! So come rinnovare velocemente una cover! Ci incollerò tutte le decorazioni oceaniche possibili! Conchiglie, stelle marine, coralli e perle! Ecco il tuo telefono! Posso mangiare ora! Wow! Molto bene, sirena! Eww! Gelatina di murena! La cosa più disgustosa di sempre! Wow! Che schifo! Questo matcha mi dà la nausea! Questa bottiglia è perfetta per la mia lettera! Nuota verso l'indirizzo! Ehi! Chi mi ha tirato una bottiglia? Ehi voi, confessate! Nessuno! Nemmeno qui! Deve essere un gambero invisibile! Cosa c'è qui dentro? È una lettera! Sono in prigione, sirenetta! La sirena in persona mi ha scritto una lettera! La salverò! Ma dov'è la prigione? Eccola! Ehi voi! Potreste aiutarmi? Oh oh! Ehi pesciolino! Stai bene? Svegliati! Non beviamo sangue di pesce! Avete visto la sirenetta? Non l'abbiamo vista! Ok, grazie! Devo andare! Non commetterò mai più un errore così grave! La prigione è dall'altra parte! Provata! Finalmente! Accidenti! Le visite non sono ammesse qui! Solo nella sala visite! Oh, sirena! Ciao! Ti cerco da una vita! È stata una corsa selvaggia! Come stai? Non sapevo dove fossi! Ho anche chiesto a un cane! E ai vampiri! Sono così felice di averti trovata! Zitta! Non posso parlare! Ho bisogno di una chiave! Ho bisogno di questa! Portami la chiave! Tutto chiaro! Evviva! Pagherò la cauzione alla sirenetta! È un grande onore! Ehi, tu! Che cosa hai? Pizza? Una per te e l'altra per sirenetta! Sirena! Ecco è quello che hai chiesto! Oh, silenzio! Ti devo un favore! Cosa? Mi prendi in giro? Allora sono stata brava! Devi ammettere che sono fantastica! Non tutti i pesci sono intelligenti! È una festa o cosa? Dammi la scatola! Subito! E tu? Nuota via! Il mio trucco è finalmente al top! Un selfie? No! Pessimo profilo! Che ne dici di così? No! Il mio viso non mi dona! Cosa faccio? Oh, sirena! Vieni qui! Sarai la mia fotografa personale! Forza! Ho bisogno di foto favolose! Ok! Cammina laggiù! Fantastico! E ora con le sbarre sullo sfondo! Ora allontanati! Stupefacente! Beccata, Ursula! Cosa? No! Come ho fatto ad abboccare al lamo? Sirena! Ti tiro fuori dai guai! E farò fuori la strega! Vieni fuori! Sirena, sei libera! Usciamo da qui! Zitta, però! Kraken, che cosa hai fatto? I pesci sono stupidi! Ho rovinato tutto! Ursula! Sirena! Ancora una volta! E come se niente fosse, siamo dietro le sbarre! Aiutaci, Poseidone! Per quanto tempo canterà? Dobbiamo fare qualcosa! Oh, pozione magica! Cos'è? È un simpatico elisir a granchio! Guarda cosa succede! Oh, sapevo di avere un talento naturale! Dieci su dieci! Ci fai uscire ora! L'elisir sarà tuo! Non potrò ringraziarti abbastanza, Sirena! Mi hai aiutata a scoprire il mio talento! Ti restituisco la tua voce! Wow! La tua voce fa miracoli! Grazie, Sirena! Ora devo andare! Vai! Cosa ci succede? Perché siamo in bianco e nero? Perché stati urlando? Che c'è? Nettuno! Per favore, ridacci i colori! Certo! Scegliamo i vostri colori! A te il blu! Preparati! Grazie! Tocca a me! Il tuo colore è... Il giallo! E la mia coda! Devo fare tutto da sola! Ha funzionato! Posso girare la ruota? Per favore! Si è fermata sul rosa! E che la magia non funziona! Ok! Usiamo il buon vecchio metodo! La pittura! Il mio colore è tornato! La mia missione è completata! Perché c'è questo scrigno? Vediamo cosa c'è dentro! È chiuso a chiave! Non riesco ad aprirlo! Cos'è questo? Primo turno? Cosa? Una tartaruga? Wow! Che ne facciamo? Hai il primo compito! Io vado! Oh! Vado anch'io! Dobbiamo sbrigarci! Ma come fanno? Non riesco a schioccare le dita! Gambe! Forza! Ho trovato una tartaruga vera! La mia tartaruga è un giocattolo! Ma comunque è molto bella! Cosa posso fare? Ci sono! Ne farò una! Al lavoro! Questa sarà la base! Taglia un guscio di tartaruga dal polistirolo! Levighiamo la superficie! E le asperità con la carta vetrata! Premi per creare un disegno del guscio! Aggiungi i dettagli! Ora mi serve un barattolo! Attacca la tartaruga al coperchio di una scatola di plastica! Si dipinge! Ricoprila con colori acrilici! Decora con muschio, fiori e corteccia d'albero! La mia tartaruga è pronta! E ha portato uno snack! Allora, chi ha vinto questo round? Io! E la mia tartaruga! Non ascoltarla! Non è giusto! Vai a casa, amica mia! Chi ha voglia di uno spuntino? Sto bene così? Che cos'è? Secondo round! Trovate le pistole ad acqua! Andiamo a vedere! Non riesco a trovare nulla! Oh! Perché c'è una valigia? Questa è mia! C'è una serratura! Non abbiamo la chiave! Ci serve una forcina! Grazie! Scassinerò la serratura! Ecco i nostri blaster! La gara è iniziata! Che vinca la migliore! Vincerò io! In guardia! Ma come funziona? Capito! Oh no! La mia coda è tornata! Prendi questo! Oh beh! Avete perso! Non ti agitare! Prendi questo! Ups! Contenta ora? Devo asciugare la coda! Perché il phon non funziona? Non è collegato! Cominciamo! Ho bisogno di stoffa e gomma piuma! Ritaglia dei pezzi di stoffa scintillante! E incollali alla gomma piuma! Realizza un braccialetto con la gomma piuma e un elastico di tessuto! Aggiungi la fettuccia! Attaccala al braccialetto! Dovrebbe brillare! Decora con squame e paillette! I guanti con le ragnatele sono pronti! E asciugherò velocemente la mia coda! Fatto! Allora, chi di noi otterrà il punto? Spero di essere io! Sono io! Cos'è questo? Un pesce? Cerchiamo un pesce! Uh, eccolo! L'ho trovato prima io! Se fossi un pesce, dove mi nasconderei? Preso! Dov'è il mio pesce? Non lo trovo! Ne farò uno! Gomma piuma! Torbici! Taglia dei pezzi di gomma piuma! Incollali e aggiungi una cerniera! Attacca la coda e le pinne! Colora con colori acrilici! Aggiungi delle decorazioni! E una cinghia! Fissa la cinghia sulla schiena! La borsa a pesce è pronta! Abbiamo trovato dei pesci! E abbiamo fatto i punti! Io ho due pesci! E due punti! Puoi tenerti il pesce! Uno, due, tre! Tocca a te! Bene! Nasconditi ora! Pronte o no? Arrivo! Sento un rumore! Ehi, sei qui? Oh no! È bloccata lì dentro! Ti tiro fuori! Cosa? È solo una pinna! Fregata! Era uno scherzo! Non è divertente! Io ho fatto un punto! Voi no! Questo lo chiamo scherzo del destino! Il gelato è dietro quella porta! Allora cosa c'è lì? Non ne ho idea! Ma io entro! Ashley, stai bene? Non vi conviene entrare! Gelato gratis! Sto arrivando! E il rumore è strano! Il gelato è così buono! Non esiste che io entri in questa stanza buia! Userò la magia delle sirene! Avvolgi un vaso di plastica nel tessuto dorato! E decoralo con del tulle! Aggiungi delle luci LED a batteria! E tentacoli di medusa fatti di paillette! Nastri, perline e tessuto! La torcia è pronta! Ora posso entrare! E la lanterna medusa illuminerà la mia strada! Ho preso il gelato! Test superato! Finalmente mi sono liberata del gelato appiccicoso! Hai il gelato proprio qui! Qui? No! Proprio lì! Qui? Qui! Non c'è più? No! Dammi un secondo! Mi serve uno specchio, ma non uno normale! Crea dei granchi in argilla polimerica! Attaccali allo specchio e cuocili! Ora dipingili! Ricoprili con vernice e acrilica! Specchio granchio, vieni con me! Ecco uno specchio! Grazie! Che bel granchietto! Oh, il mio naso è ricoperto rigelato! Molto meglio! Grazie! Quando vuoi! Ho vinto il round! Hai idea di quante volte questo tridente sia apparso nel video? Scrivilo qui sotto! Londra ha portato qualcosa! È un messaggio in bottiglia! Cosa c'è scritto? Un invito a una festa? Dobbiamo prepararci! Cosa ho ricevuto? Una festa? Ma dov'è il mio invito? Preso! Che altro c'è? Oh! L'acqua ha lavato via tutto il mio trucco! Ma so cosa fare! Avvolgi una palette nella gomma piuma dando la forma di una barca! Colora e decora con glitter e paillette! Una nuova tavolozza! Il make-up è pronto! La nostra bellezza cecherà tutti a questa festa! Sirena blu! Sirena d'oro! Sirena rosa! Sì! E tutte noi abbiamo vinto!